a che ti apro Kate ciao Kate guardo una chitarra che ti faccio il vlog almeno non faccio figurare ciao Ale allora dicevamo che l'ha cambiato pick up al ponte quello lì è un di marzio credo mi sembra è un mini a marzio e che vuol dire che ha più uscita, più volume, più botta quindi se lei vuole roccheggiare di più questa sera a super quark parleremo di pick up di marzio vai partite io sono direttore di rocchiamo partite 1,2,3,4 a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, tranquillamente. Ottimo. Alla prossima sonata. Ciao, ciao. Ciao. Allora, adesso partiremo perché c'è il compleanno di Braga tra pochissimo, anzi sono pure in ritardo. E quindi ci vediamo tra poco lì. Quindi una bomba d'acqua mi spiegavano che ha preso sulla schiena il giornato compleanno. Ti hanno fatto un regalo. Tu lo so che non vuoi farti vloggare ma io ti vloggo perché tu hai i debiti col Gallo. Tu hai i debiti col Gallo. Ciao Gallo. Guardate l'Ale. Stasera è on point. Ma grazie. Il Gallo è troppo temero. Sei pronto a festeggiare? Sì, sono pronto a festeggiare il Brax. Di nuovo. Eccolo qua il Gallo. Ehi là. Ciao Denise. Ciao Denise. Quella mia è una vloggata. Eh lo so. Aspetta che c'è Atti cazzo, il mio fratello, il mio bro. Ciao mi frate e il bro, ma la per madre. Sto vloggando. La figa bello, il tocco di stile e il pletro lì. Ce l'hai visto? Sì, sei fatto. Vai vai, qua si gioca. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Allora, questo è un addio annubilato. Dico bene? Stavolta ho detto giusto. La sposa sarà quella col coso rosa immagino. Ce ne vuole poco. Quindi ci arrivo dai. Intuito che è. Grazie. La sposa è la risposa. La risposa è la risposa. La risposa è la risposa. Buona serata, scusatela. Ma la Sirmione, che figata da qua. Bravo, prendiamo un discorso. Diccordo. 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 Dai bravi emozioni, dacci emozioni, fammi liberare il cuore. Bravo. A pure braga! Grande braga! ed. più al登録ando. Diccordo bravo! Oh good guys! chiamiamo il tancare che si fa la tipa Corinna fai vedere la lingua HAT 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 6-4-4 perché seiLA su, quel tra il primo non è traspettato ho fatto nulla lei confugna wow andee HE 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 siamo in piedi, potrebbe esserci delle merda di cane non è un palco non è un palco è un palco è per il braga vipipati 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 vipipipipati vipipati vipipati a venite con me seguitemi sta andando sta andando sta andando il gallo vlog sta andando avanti il gallo è caduto il gallo è caduto l'ha fatto apposta? gallo manda un segno ci sei ancora? ciao gallo che volo gallo adesso scappiamo col cellulare dai scappa voi mi hanno spiegato la storia allora c'è il monte è terribile poi mi hanno spiegato la capitale ah sì tu sei meglio aspetta aspetta ahhh ahhh scandisci le parole vai ah lo stavi chiamando un secondo fa ah no boh mi è partita la chiamata perché ho il pollice opponibile perché ho il pollice opponibile qualcosa riguardo i diatti ah 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 i diatti allora a te a Braga adesso no perché ho messo di merda ma a te a Braga a te a te ah 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 non puoi farli male ha ribalzato su di me il blog delle 2.38 signori finito il confiando del Braga male per lui bene per noi tutto sommato siamo divertiti io ho fatto un bel volo il volo lo vogliamo vedere il volo del gallo e niente salutiamo il blog e a domani a domani quindi come dice Zani buonanotte buonanotte e buonanotte e buonanotte e la terra è rotonda piatta